il recital è nascito in un bambinello un recital sul Natale in Calabria su come si festeggia o si festeggiava il Natale in Calabria percorreremo tutti i momenti significativi dall'avvento fino al primo dell'anno è un musical, un recital composto da musiche, canzoni, brani, recitati poesie ed è stato offerto dalla parrocchia del demiso corso a tutti i fedeli, tutti i parrocchiali tutti gli amici che sono voluti venire stasera a conclusione di questo tempo del Natale a conclusione anche delle feste di Natale è un messaggio di gioia, un messaggio di speranza bene, possiamo iniziare? Natale, oh Natale tu tornasti questa luce di chianto sempre nuova e pare che non c'è ora onde portasti che canterra fra noi più non si trova non c'è ora il paradiso c'è ora il pace un profumo di erba di montagna onde non nasce i ciuri ma se face abbondante il cuore quanto la campagna chi sta canzona di migliaia d'anni mi scivolando un giorno in una foresta da copiare l'angelo e i culicanni l'antisi Cristo e dal ridio una scena oh Ciaramella sta canzona vocia che un duci di un zucca non passata lo pezzia un cuore a moscia a moscia l'anima mi struggìo per non riusciata omeni buoni chiarito il cuore omeni forti chiarito il uciato brazzate l'ingro quanto mi si muovi lutri che suona l'umotivo grato voglio i sonati avanzi la mia casa mentinna sempre fresca e quando muoro ultima e bella strofa mi va a balsa oh Ciaramella sta canzona dove oh Ciaramella la carica la carica ma Grazie a tutti. 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 a tutti.